risolutivo, 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 uno aggettivo questa volta, uno soltanto per Piotr Zielinski, risolutivo, risolutivo, avete capito? Risolutivo, baldi giovani, parliamo parliamo di Cagliari Napoli, prima però vi invito a scaricare OneFootball e vi anche anticipo che le altre partite non riesco a trattarle tutte al momento, ma la goleada dell'Atalanta, la vittoria comunque della Roma che è sempre al terzo posto, il pareggio della Lazio, la vittoria del Verone con un Zaccagni strepitoso, parleremo anche di questo e di altro in un video apposito, non so se arriverà stasera o in nottata o domani con calma, però voglio trattare tutte le partite perché mi interessa parlare di tutto, c'è tanto da dire ragazzi, c'è tanta roba da dire, però per il momento partiamo da Cagliari Napoli e partiamo anche da OneFootball che nel frattempo vi aggiorna su tutti i risultati, sulla classifica, sul calendario, qualora vi interessasse, le prossime sfide, state lì aggiornate sul pezzo con OneFootball a posto, link in descrizione, è totalmente, interamente, completamente gratuita per cui fate una cosa semplice, scaricatele e via, fatelo se vi va. Perché in una partita dove comunque finisce, possiamo dire, con un margine ampio, 4-1 da parte del Napoli fuori casa, perché però mi soffermo su Zialischi? Perché? Perché? Sul gol del vantaggio e sul gol del nuovo, nuovo, del nuovo vantaggio sul 2-1 e se non ci pensa poi lui ragazzi, non lo so come possa andare a finire in una partita dominata dal Napoli, una partita dove Napoli ha costruito tanto nonostante le tante assenze. Il Napoli continua a essere una squadra, diciamolo, senza i due migliori, migliore è brutto dirlo, però due attaccanti di importanza vitale come Osimène, sappiamo quanto ci abbia infestito il Napoli, più metteci Mertens, nonostante giochi magari con Petagna, che il suo magari lo fa anche, ma non è l'attaccante, diciamo, centrale al progetto, e nonostante ciò il Napoli crea, 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 crea. Dietro oggi mancava Koulibaly, e quando ti manca Koulibaly l'assenza si sente, soprattutto lì nei contrasti e il gol subito è abbastanza un pochettino anche fastidioso, perché lì vedi una squadra che, come ha detto lo stesso Gattuso, ci vuole veleno, ci vuole veleno, ci deve mettere rabbia, rinta, feroce, invece Maximo si perde l'ultimo contrasto e João Pedro ne approfitta, rimettendo in corsa un po' il Cagliari, che ripeto, nel primo tempo era stato totalmente assente, si era un po' ripreso nella ripresa, ma come nel primo tempo, tanto nel secondo, risolutivo Piotr Zelischi. Perché? Perché Piotr Zelischi, ragazzi, Piotr Zelischi è uno che sa trattare la palla, ci sa fare con la palla, cioè è uno che utilizza, che sa utilizzare le buone maniere con la palla. Che cazzo sta dicendo? Che cazzo sta dicendo? Ve lo spiego io che sto dicendo. È uno che sa quando deve tirare il calcio forte, quando deve indirizzare in maniera potente, sa anche quando bisogna soltanto accarezzarla. Conosce tutte le buone maniere, cioè potrebbe andare a lezioni di buon ton calcistica, Zelischi. Come ha detto Bucciantina Sky, il secondo gol è pattinaggio sul ghiaccio. Ragazzi, ma avete visto come l'accarezza? Velluto! Velluto quel tocco! Velluto! Incredibile! Gol bellissimo! Gol bellissimo il secondo, ma tanto quanto il primo, ragazzi! Anche il primo, una botta da fuori, pazzesca! È il centrocampista che per caratteristiche a me piace tantissimo, cioè lo stereotipo di centrocampista, Zierischi, è quello che mi piace, che mi fa morire, perché ripeto, ha la fucilata da fuori, sa creare superiorità numerica, sa veramente, ha una tecnica incredibile, deve essere costante, ecco, se riesce a portare questo valore in tutte le partite e quindi diventa leader assoluto della squadra, è incredibile, ripeto, pazzesco, pazzesco, pazzesco per davvero Piotr Zielischi, che anche sull'espulsione, bravo, bravo Ciuchilozzano, che poi è un altro nome che va assolutamente citato e deve essere buttato lì alla merce di chi ama questo sport, sicuramente allo Zano che sta facendo benissimo, che per l'ennesima volta un suo dribbling crea scompiglio e quindi secondo giallo magari al giocatore ci ha monito, ma anche lì tutto nasce da un tunnel sempre di Zielischi che poi serve lo Zano, cioè, perciò ho un solo aggettivo, possiamo decantarne tanti di aggettivi, ma uno su tutti, risolutivo, Zielischi risolutivo, secondo me risolutivo più che mai, perché poi ripeto, in partite da Genna dove tu giochi bene, crei tanto, tiri, ti dimostri superiore all'avversario, ma poi non la botti dentro, c'è bisogno comunque di quel giocatore che ti tira fuori dal cilindro la giocata e lui ne ha tirata più di una di giocati in questa gara qua, quindi davvero risolutivo. Napoli di Gazzuso è là, 28 punti con una partita in meno, potenzialmente a 31, quindi potenzialmente terzo posto, comunque al quarto c'è la Roma lì a 30, che sta facendo benissimo anche la Roma di Fonseca, è un bel campionato ragazzi, un bel campionato con queste squadre qua che giocano bene, ripeto, Napoli, Roma, Atalanta, c'è tanto calcio, ecco c'è tanto calcio con Milan, Inter e poi basta pensare che la Juventus, che è la squadra che per anni ha dominato, attualmente si trova al settimo posto, questo la dice lunga su quanto quest'anno sia un campionato equilibratissimo. Dai, vediamo un po' cosa ne esce fuori, ribadisco il concetto, al momento solo Cagliari-Napoli, poi parlerò anche delle altre perché c'è tanto da dire, facciamo un video college, un remix della Serie A, va bene? Un grande abbraccio e vado a godermi adesso la partita della capolista, vediamo che succede, vediamo un po', buona partita, buon calcio, ricorda perché abbiamo due belle gare da vedere, un grande abbraccio, Aneschi!